Sto guardando dall'alto la mia vita e quando tu vedi la vita dall'alto hai una modalità di respiro e quindi di soluzione. Mi sento... in forma. Non pensavo di fare così facilmente quello che ho fatto oggi. Cioè? Cioè di salire senza quasi far fatica di andare su là in cima ma anche quando avevo visto te ho detto questo cazzo è andato questo. E invece quando sono arrivato io ho visto l'ultimo anello attaccato, l'ultimo rinvio attaccato che era quello arancione. E cazzo sono già arrivato qua. Due mesi fa è stato bellissimo perché ho guardato 72 telefonate in un giorno. Io in questi giorni che sono costata a Malaga e comunque sabato e domenica la mia attività funziona perché ho tanti cartieri aperti ma io non ho ricevuto una telefonata. Cioè in così poco tempo già la modalità lavorativa, l'impegno fisico lavorativo è completamente cambiata. Da due tre mesi e ho visto che comunque tutto funziona. Sì e ho guardato. 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 Sì e mi fa male la gamba perché noi abbiamo una postura sbagliata. Adesso la mia priorità è questa perché se io risolvo questa priorità andrò avanti a livello lavorativo ancora di più. Ma è lì che dobbiamo partire da noi se non partiamo da noi da quello da mettere a posto le posture sono mettere a posto le sicurezze. E poi il fisico perché io ho dormito niente sono una che non dorme sei ore e va fuori dalla grazia di Dio sono qui un po' imbaciata però l'energia esiste c'è. Perché devi perdere il bambino che c'è dentro di te? Ok la teoria della sera ma il giorno dopo c'è la pratica. E oggi ho scoperto che più ho difficoltà e più sono centrata e quindi se sono centrata riesco a risolverle queste difficoltà. Meraviglioso, meraviglioso, meraviglioso. Marco io questo è quello che vi sento di dire. Eccoli. Ciao c'è Flavio, Monica, Giorgio e Maia. Ragazzi buona giornata. Grazie. Ciao c'è Flavio. Ciao c'è